Personalità pericolose di John Barrow Le checklist delle personalità pericolose Nel settore in cui lavoravo non abbiamo mai goduto del lusso di giorni o settimane a disposizione per analizzare un individuo. Le decisioni su chi sottoporre a indagini, dove concentrarsi, chi seguire, chi interrogare, contro chi combattere, chi affrontare o arrestare, dovevano essere prese rapidamente. Dopotutto, nei momenti in cui state negoziando con un rapinatore, non potete dire Aspetta un minuto, dobbiamo chiedere a un comitato di esperti qual è davvero la tua personalità così da sapere come trattare con te. Non funziona in questo modo, la vita vera cade in tempo reale e le decisioni devono essere prese in un istante. In situazioni di crisi, le nostre conoscenze generali sul comportamento umano erano fondamentali, ma altrettanto lo erano le informazioni specifiche che gradualmente raccoglievamo su come quelle personalità pericolose si erano comportate. Con il passare del tempo, mentre studiavo e parlavo con quegli individui e anche con gli esperti e le vittime, le loro caratteristiche principali venivano formalizzate con elenchi per aiutarmi a valutare i soggetti contestualmente alle situazioni ad alto rischio, che affrontavamo ogni giorno all'FBI. Ciò che solo un numero selezionato di profile dei criminali dell'FBI in precedenza conosceva, le competenze che io stesso ho ripetutamente sfruttato e perfezionato nel corso degli anni, ora le condividerò con voi. Capitolo per capitolo descriverò i tratti distintivi di ciascuna delle quattro personalità, come si comportano, come ci fanno sentire, dove e come possiamo incontrarle, con esempi presi dalla vita di tutti i giorni, dai miei fascicoli criminali e dai titoli dei giornali. Concluderò ogni capitolo con la checklist della personalità pericolosa, specifica per quella tipologia, che descrive i segnali chiave di avvertimento in un linguaggio immediato. Gli elenchi includono un pratico sistema di punteggio, facile da utilizzare, per aiutarvi a valutare in quale categoria rientrino, in uno spettro che va da lieve, a moderato, a grave, in altre parole da molesto, a deleterio, a pericoloso. I comportamenti del soggetto in questione. Le checklist vi aiuteranno a comprendere quanto segue. I tratti delle personalità e i comportamenti più comuni che suggeriscono di procedere con cautela. I tratti, comportamenti o gli eventi che sembrano normali, ma che effettivamente comunicano pericolo. Cosa potete attendervi in futuro da quell'individuo? Il possibile livello di minaccia per voi e per coloro che si accompagnano a quell'individuo. Ogni elenco è molto specifico e molto dettagliato, in effetti molto più dettagliato rispetto a quelli utilizzati nella diagnosi dei disturbi della personalità, dai professionisti che si occupano di salute mentale. Nel momento in cui leggerete le checklist, potreste chiedervi perché sono così lunghe. La risposta è semplice. Valutare personalità pericolose è un compito spesso elaborato e sottile. Gli elenchi sono necessariamente lunghi. I dettagli assicurano accuratezza e aiutano ad evitare il rischio di trascurare comportamenti significativi o sfumati che il profano potrebbe aver dimenticato o potrebbe non aver considerato indicativi, ma che sono importanti per l'identificazione di una personalità particolarmente pericolosa. Quando si tratta di salvare vite o garantire la sicurezza di altri, bisogna contemplare ciò che è utile per il pubblico più basso e anche ciò che è necessario. Proprio come un pilota competente fa un lungo controllo prima del decollo è una checklist di atterraggio per garantire la massima sicurezza di tutte le persone a bordo. Allo stesso modo noi dobbiamo usare elenchi completi per essere il più possibile scrupolosi e precisi. Quando si tratta di personalità pericolose, i dettagli e l'accuratezza vincono sulla sintesi e la mancanza di chiarezza. Mentre leggete questo libro e utilizzate le checklist, noterete che, diversamente dal maggior numero dei saggi sull'argomento, ci sono pochissime statistiche. C'è a mio avviso un motivo valido. Quando diciamo che questo o quel tipo di personalità rappresenta l'1, il 6 o il 2,8% della popolazione, secondo me non stiamo facendo un buon servizio ai lettori, perché li invitiamo a concentrarsi sulle probabilità statistiche invece che sui comportamenti. Sussiste il rischio che qualcuno dica «Beh, ho una probabilità del 96% di essere assicuro, quindi non devo preoccuparmi di avere a che fare con quel genere di persona». Molti fumatori si fanno delle illusioni concentrandosi sulle statistiche relative a coloro che non sono affetti da carcinoma polmonare, piuttosto che sui comportamenti e sullo stile di vita che inducono la patologia. È esattamente il modo di pensare che vogliamo prevenire. Tutto ciò che serve è un solo incontro con una personalità pericolosa per rovinarvi completamente l'esistenza. Per strada, a lavoro, in macchina, a casa, nella vostra camera da letto. Quindi, in questo libro, ci concentriamo sui comportamenti, non sulle statistiche o sulle probabilità. Dalle ricerche per ulteriori informazioni, fate riferimento alla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto con la sigla DSM-5, derivante dal titolo originale della versione statunitense Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ho anche appreso che alcuni disturbi vengono più frequentemente diagnosticati o associati a una specifica tipologia di soggetto. Per esempio, il disturbo antisociale di personalità viene più spesso diagnosticato nei maschi e il disturbo di personalità borderline nelle femmine. Questi due disturbi hanno rispettivamente molti tratti comportamentali tipici del predatore e della personalità emotivamente instabile, discussi in questo libro. Per lo stesso motivo è sconsigliabile concentrarsi troppo sulle statistiche e associare un disturbo a un tipo di personalità con un genere specifico sarebbe un errore. Non vogliamo essere fuorviati fissandoci sulle statistiche o sui pregiudizi di genere. Ciò che vogliamo fare è concentrarci sui comportamenti. Essi definiranno in maniera schiacciante il tipo di personalità pericolosa.